Novità adottate in tema di opere pubbliche. È stato infatti pubblicato il bando per i lavori di riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazioni ambientali del centro storico. Con fondi a valere sul PSR Campagna 2014-2020 dunque l'amministrazione comunale di Ottati riqualificherà alcune vie del centro storico del paese per un importo di oltre 391 mila euro. I lavori prevedono interventi dedicati ai sottoservizi, dunque rete idrica e fognaria, alla pubblica illuminazione e alla pavimentazione. Il bando scade il 9 aprile e il metodo di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa. Non solo centro storico, Ottati si prepara infatti a riqualificare anche il campo da tennis presente nell'impianto sportivo polivalente Biagio Marino che comprende anche campo da calcio per un importo di 205 mila euro con fondi a valere sul bando Fondo Sport e Periferie 2019 del CONI. Il bando scade il prossimo 15 aprile e il metodo di aggiudicazione è lo stesso del centro storico. I lavori prevedono la realizzazione del tappeto di gioco, impiantistica e sistemazione delle aree di pertinenza. Sempre in tema sportivo il comune di Ottati ha candidato al medesimo fondo per l'anno 2020 la realizzazione di un maneggio a scopo sportivo, turistico e riabilitativo per un importo di 700 mila euro. Il progetto è in partenariato con il piano di zona dei servizi sociali, l'ente attuatore del progetto di integrazione e accoglienza Sprar-Siproimi, la Caritas Diocesana, il centro di riabilitazione ortochinesis di Piagine, la federazione Fite e Trecante, l'istituto comprensivo Serre Castelcivita, la Polisportiva, il forum e la Proloquo di Ottati.